Cambise II re di Persia, un nome che evoca l'antica grandezza e le imprese di un sovrano. Attraverso le nebbie del tempo, emergono frammenti della sua vita e delle sue conquiste. Prendiamoci un momento per esplorare la storia di questo personaggio storico affascinante. Re di Persia e faraone d'Egitto. Cambise II, noto anche come Cambja, fu il gran re dell'impero Achemenide dal 529 anno corrente fino alla sua morte nel 500, 22 anno corrente. Figlio di Ciro il Grande, ereditò un impero vasto e complesso, e la sua reggenza segnò un periodo di consolidamento e espansione. La conquista dell'Egitto fu una delle sue imprese più celebri fu nel 525 anno corrente. Cambise II, con il nome di Mesutira Camebet, divenne il primo faraone persiano. Sconfisse l'ultimo sovrano della ventiseiesima dinastia, Sammetico III, grazie anche al generale greco Fanes, che aveva precedentemente disertato dall'esercito egizio. L'Egitto cadde sotto il suo dominio, e Cambise II si incoronore, adottando la completa titolatura reale. Progetti militari e leggende. Tuttavia, la sua ambizione non si fermò qui. Cambise II pianificò tre progetti militari che avrebbero avuto come base di partenza l'Egitto stesso. Conquista della Nubia, si spinse fino al confine con la Nubia, ma la scarsa conoscenza del territorio potrebbe aver contribuito al fallimento di questa impresa. Spedizione verso le oasi occidentali del deserto libico, anche questo progetto non ebbe successo. Conquista di Cartagine, tuttavia, i marinai fenici rifiutarono di armare la flotta persiana per attaccare una città di origine fenicia. Da queste spedizioni nacquero leggende su una presunta armata perduta di Cambise, citata anche da Erodoto e oggetto di interesse per gli archeologi. Fine misteriosa la morte di Cambise II rimane avvolta nel mistero. Durante il viaggio di ritorno verso Susa, la sua vita ebbe una fine prematura e tragica. La sua eredità, tuttavia, sopravvive nei racconti e nelle antiche iscrizioni, e il suo nome continua a risuonare attraverso i secoli. In conclusione, Cambise II fu un sovrano audace, un conquistatore e un faraone. La sua storia ci ricorda che anche i grandi imperi e le epoche lontane sono intrecciati con le vite di uomini e donne straordinari. Grazie a tutti.